domani la tifoseria organizzata terrà una manifestazione preavvisata con regole chiare in un'area delimitata della città alla vigilia dell'iniziativa organizzata dai tifosi interisti per rendere omaggio alla squadra campione d'Italia il prefetto di Milano racconta una settimana di lavoro, di incontri i messaggi che vengono dagli organizzatori sono molto positivi, apprezzabili e incoraggianti ci sarà comunque un importante dispositivo di controllo è preoccupato anche alla luce di quanto avvenuto domenica scorsa? le preoccupazioni sono quotidiane ma voglio ricordare che dall'inizio dell'anno a Milano in piazza si sono svolte almeno 500 manifestazioni nello stesso periodo il tasso di contagio a Milano è cresciuto in maniera più contenuta rispetto alla regione sempre preoccupante ma più contenuta si contano sulle dita della mano le occasioni in cui purtroppo hanno prevalso le ragioni di gestione dell'ordine pubblico e della tutela dell'incolumità delle persone così è successo domenica non un graffio, non un danno ma comportamenti estremamente pericolosi per il contagio ingiustificabili e non legittimati da nessuna esultanza le restrizioni pesano sempre più dopo un anno e mezzo di pandemia oggi l'Italia è tra i primi dieci paesi al mondo per somministrazione di vaccini la Lombardia ha messo in campo una poderosa macchina per la campagna vaccinale le residenze per anziani sono in sicurezza e si riaprono alle visite dei parenti ripartono le giornate di primavera del FAI, i concerti della SCA non è un percorso scontato è necessario avere una salda coesione istituzionale, sociale e umana ora la polizia